Basta seguire il profumo per arrivare qui nella cucina della sede Fevos di Santa Toscana. Sono le 11 ma i fornelli vanno già da un po' perché bisogna preparare il pasto del convivio. Tra poco qui arriveranno una trentina di persone, anziani, stranieri, persone sole, che potranno mangiare un pasto caldo. Cosa ci fa un cuoco professionista qui alla Fevos? Una bella domanda questa. Il cuoco professionista fa che nel momento in cui ha cessato la propria attività per motivi vari, che magari sono un po' lunghi da spiegare, non avendo niente da fare, mi sono messo a aiutare il prossimo. Quindi ho usato la mia professione a far mangiare i nonni, li chiamo nonni io qua, maschi, femmine, a cui siano, persone disagiate per strada, coloro che ne hanno bisogno, ex detenuti e quant'altro. Ogni giorno chi viene qui? Ogni giorno viene coloro che hanno bisogno, hanno bisogno di soddisfare, a parte quando piove così vengono un'ora prima, per mangiare, quelli che hanno bisogno di mangiare, esclusivamente mangiare e che non hanno niente. E noi siamo qua disponibili per loro. L'iniziativa è partita questa primavera con la FEVOS in rete con la circoscrizione e gli assistenti sociali ed è basata sul volontariato. Marzio ha un'esperienza di 35 anni di cuoco professionista e offre volentieri la sua capacità a servizio degli altri, gratuitamente. Negli anni 80 la sua professione l'ha portato perfino in Giappone per esportare la pizza alla cucina italiana. La mia esperienza in Giappone è anche quella che fa parte del mio bagaglio professionale. In Giappone ho imparato da loro a fare il pesce, il sushi che qua non si faceva negli anni 80 e io ho portato la pizza in Giappone, quella che è la nostra cucina tradizionale italiana, la cucina mediterranea. Dal calore dei fornelli a quello delle relazioni, qui ci si sente accolti come in famiglia, come ci racconta Stefano. Sono appena venuto fuori dal carcere di Montorio e mi hanno fatto un programma e mi hanno portato un lavoro un po' particolare, diciamo di cucina come aiutante a cuoco, fare tutto quello che c'è da fare. Io qua mi sento più che più, lavorando mi sento più in famiglia. E adesso ci si prepara il pranzo di Natale alla cena dell'ultimo dell'anno. Si cercano volontari per dare una mano proprio in quei giorni in cui la solitudine si fa sentire di più. A Natale pranzo alle 13 con i soci e gli ospiti. Chi volesse partecipare deve solo contattare la Fevos. Natale e il 31 dicembre sono giorni particolari, questi delle feste per chi è da solo. Cosa ci sarà qua in Fevos? Beh, qui in Fevos per quelli che sono soli qua c'è da ridere, perché qua facciamo ridere tutti. Quelli che hanno bisogno, quelli che magari se stanno a casa ci hanno l'acciacquo, no, non vengo fuori, non c'ho voglia. Invece qua cerchiamo di stargli vicini, gli facciamo un bel pranzo, cerchiamo di stargli in compagnia, insomma, per quanto riguarda queste giornate che sono sempre state delle giornate tristi per coloro che sono soli. E servono anche volontari? Beh, sicuramente di volontari che hanno voglia, che hanno quell'ora da perdere, da non voler stare in giro così e se vogliono venire qua a darci una mano, ben vengano. Noi accettiamo tutti coloro che vengono qua.